Salve a tutti gli utenti, oggi torno con la video presentazione di un prodotto per gatti e vi parlerò quindi di purina frischi scontrollo palle di pelo. Allora, innanzitutto partiamo con la confezione, anche qui c'è una chiusura salva freschezza per mantenere intatto il sapore e le proprietà del prodotto che anche se secco va a andare a male. Allora, controllo palle di pelo aiuta a ridurre la formazione di palle di pelo. Digestione sana con polpa di barbabietola per regolare la digestione. Questa è con pollo e verdure aggiunte. La confezione è da 375 grammi. Andiamo a leggere il retro. Le palle di pelo sono una parte naturale della vita di un gatto. Si possono sviluppare nel momento in cui il gatto si pulisce frequentemente il pelo, ma non sono di certo cosa gradita in una casa. Frischi scontrollo palle di pelo aiuta a ridurre la formazione delle palle di pelo ed anche a favorire una sana digestione per il tuo gatto. Con lo stesso gusto delizioso di tutti gli altri prodotti Frischi, 100% completa, la formula Frischi scontrollo palle di pelo contiene fibre provenienti dalla polpa di barbabietola che aiutano gentilmente ad eliminare le palle di pelo attraverso il tratto digerente e a promuovere il benessere digestivo. Frischi scontrollo palle di pelo per gatti sani e felici. Controllo palle di pelo controllo con fibre per aiutare a ridurre la formazione di palle di pelo e agevolare delicatamente la loro eliminazione attraverso il tratto digerente. Digestione sana con polpa di barbabietola per regolare la digestione e aiutare a mantenere la qualità delle feci. Denti e ossa sani supportati da minerali essenziali e vitamina D. Poi qui c'è scritto la razione giornaliera. Le razioni giornaliere raccomandate devono essere adeguate tenendo conto delle condizioni ambientali a livello di attività del gatto e dalla sua condizione fisica. Si consiglia di adeguare le razioni giornaliere alle specifiche esigenze alimentari del proprio gatto per mantenerlo in perfetta forma. Quindi se un gatto pesa intorno ai 3 kg bisogna somministrare circa 55 g di prodotto se pesa intorno ai 4 kg 70 g di prodotto se pesa intorno ai 5 kg 90 g di prodotto. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita un consumo sufficiente di acqua è una parte necessaria di una sana nutrizione quotidiana. Poi c'è scritto ancora, qui, diciamo la composizione che vi allegherò sul video. Ancora la gamma di Friskies, che esiste Friskies Junior per una crescita sana dei gattini, crunchy and soft, delizioso mix di crocchette croccanti e crocchette più morbide e sterile per il benessere del tratto urinario dei gatti sterilizzati. Poi c'è il sito www.friskies.it www.purina.gr e poi il numero del servizio consumatori conservare il luogo fresco ed asciutto come avevo detto questa confezione è da 375 g il prezzo come sempre ve lo leggo sul video ma di solito non superano i 2 euro e lo potete trovare, mi sembra sì, d'averlo visto negli ipermercati. E sappiamo quanto il gatto, quanto sia fastidioso per un gatto divinare le bolle di pelo e quanto sia fastidioso per noi raccoglie, diciamo, il suo vomito. e, diciamo, controllo a palle di pelo aiuta all'eliminazione appunto di questi boli. Fatto sta che la mia Diana non adora le creme al malto quindi noi utilizziamo per di più croccantini o di questa o di un'altra marca per, diciamo, per l'eliminazione di queste palle di pelo. ovviamente cosa devi di questo prodotto? È un prodotto bilanciato io consiglio sempre da consumatore ed amante del mio gatto ma non da veterinario magari parlatene con il vostro veterinario comunque di consumare una parte secca e una parte umida di non dare solamente secco di non dare solamente umido al vostro gatto per quanto riguarda le palle di pelo questo è un buon modo per aiutarlo diciamo, a digerire i peli che ingoia leccandosi è, diciamo, buona abitudine spazzolare il gatto e dargli la pasta di malto se è possibile. E cosa dire? Io vi ringrazio per avermi seguito in questa nuova video presentazione di prodotto e vi lascio alla prossima. Ciao a tutti!